Dyneema Multifibra ha 8 fili intrecciati molto serrati, elevato carico di rottura, superficie trattata esternamente evole, resistente all'abrasione, senza alcun tipo di allungamento e memoria. Colore giallo fluo ad alta visibilità per qualsiasi condizione di luce. È ideale per spinning, vertical jigging, feeder, long range e trailer. Viral è il nuovo Dyneema di Tubertini. Grazie per la visione!